Ciao a tutti, sono Giorgia Stajano, è sempre un piacere poter essere qui in Liuk e poter condividere un'ultima giornata universitaria insieme a tutti i miei colleghi. Del mio percorso sicuramente quello che ricordo con più piacere sono i tre momenti clou, quindi il primo anno, uno stage all'interno della Samsung individuato grazie al Career Service, successivamente in conclusione del mio percorso ho avuto modo di svolgere una tesi di ricerca al Politecnico di Zurigo nell'ambito delle piattaforme digitali applicate all'ambito industriale e infine poco prima di laurearmi ho avuto modo di intraprendere una carriera nell'ambito dell'ingegneria di processo all'interno di Ferrari, esperienza che tuttora sto continuando come Process Engineering Specialist.